Adesso Filippo ha quanti anni? Ha 4 anni compiuti a gennaio, usa questo monitor interattivo da due mesi. Abbiamo modificato la postura e in particolare rinforzato la posizione per liberarlo nel movimento. Filippo si sceglie i giochi e inizia le attività di riconoscimento delle lettere e dei numeri. Filippo torna sull'attività dei numeri, si sceglie l'attività. La difficoltà di avere una posizione del dito che comanda la macchina è abbastanza presente ed è per questo che l'inclinazione del monitor è stata amplificata in questa maniera, per evitare che la mano dia delle risposte errate. Come si vede adesso la risposta è più giusta. Filippo risponde alle domande fatte dal computer sui numeri. Come si vede riconosce tutti ormai perché è un gioco che abbiamo rinforzato abbastanza.